Raccogliamo anche le impressioni di coach Valerio Valdovin dalla panchina di Vibo Valencia. Coach, possiamo parlare di una Callipo in crescita dopo le buone prestazioni che si sono viste sia con Verona che con Perugia? Sotto il profilo del gioco direi di sì. È chiaro che è ancora presto per dare un parametro definitivo alla nostra crescita. Oggi è chiaramente una partita importante per far vedere se possibile anche qualcosa meglio. Oggi ritorna titolare De Falco dopo una prova strappata a Birigui che però essendo anche alla prima esperienza in Superlega se l'è ben cavata. Questo però sicuramente giocherà a suo favore per utilizzare un'arma in più contro Modena oggi? Sì, lui ha avuto un problema in settimana che adesso è risolto. Quindi partirà lui. Chiaramente tutti quanti gli altri dovranno comunque essere pronti. Io penso che dobbiamo lavorare su tutta la squadra, non solamente su chi scende in campo. Perché poi alla fine della fiera il campionato è lungo. Ci sono tante partite ravvicinate e c'era bisogno di tutti e quindi anche di Victor. Coach, che cosa teme di più oggi di questa Modena? Beh, insomma loro hanno tante armi che possono utilizzare. Sicuramente il palleggiatore è un elemento importante. Non sappiamo bene come scenderanno in campo perché stanno un po' mescolando le carte, hanno cambiato diverse formazioni. Credo che la cosa a cui dobbiamo stare più attenti a essere, diciamo, più farci trovare pronti è che loro chiaramente è una partita che vorranno vincere come vogliamo vincere noi e quindi dobbiamo pensare di dover fare una battaglia anche lunga. Bene, non ci resta che farvi un grosso in bocca al lupo. Ci vediamo nel post-gara. Grazie.